Buonasera, grazie a tutti per la presenza. Abbiamo voluto in questo momento particolare per merito. Prima di iniziare, come sindaco, vi chiedo di fare un momento di raccoglimento di silenzio per ricordare la figura del compianto Peppe Minicucci, ex amministratore, papà di amministratore. Facciamo un minuto di silenzio. Bene, grazie. Passo subito da un momento un po' particolare, un momento invece di gioia. Faccio gli auguri a nome dell'amministrazione all'assessore Emma Toscano, ancora una volta mamma. La salutiamo stavolta con un applauso. Faccio gli auguri. Non abbiamo avuto modo di poter presentare. Avete presso dai giornali. Abbiamo fatto conferenza stampa, non c'è stata occasione. Lo faremo nel prossimo consiglio. C'è stato un cambio. Io ho rintegrato a seguito delle dimissioni dell'assessore, dell'ex assessore Rocco Di Pietro. Magari più tardi qualche passaggio lo facciamo. Ho nominato assessore. L'acqua presente, Carmelina Nucera. A lei i miei auguri e gli auguri di tutto il gruppo Melito nel cuore. Penso che qualcosa vorrà dire, sicuramente ci dirà qualcosa. Ma prima ancora di cedere il microfono a Carmelina, mi corre l'obbligo di fare un passaggio veramente sentito di cuore, perché non è facile a volte fare rinunce. I giornali incalzavano l'assessore, il linea Zappia, il dilemma. Così come magari qualcuno sta cercando di incalzare sulla poltrona da qua qualche mese il vice sindaco Patrizia Chea, Mimmo Crea, la supera, non la supera, Meduri. Non è questo il problema. Non l'ho mai stato quando a fianco, al mio fianco, ci sono persone come Patrizia, come Mimmo, ma soprattutto come Elenia e Paolo Scrivo, di cui vi porto i saluti. In questo momento sta lavorando. E' uno dei tanti giovani che ha avuto difficoltà, come tanti altri, a trovare lavoro. In questo momento fortunatamente lavora e lavora a merito. Voglio ricordare, l'ho detto nel passaggio della conferenza stampa che c'è stata la settimana scorsa a seguito degli arresti, ricordare il giovane ragazzo, adesso mi sfugge il cognome, il nome, Altomonte Domenico, se non sbaglio, che a 32 anni è morto, incidente sul lavoro. Ha trovato lavoro soltanto da due mesi. Queste sono le cose che ci devono fare riflettere. Un ragazzo di 32 anni che quando pensa di aver trovato la tranquillità di un lavoro che gli possa garantire una vita sicura, poi tutti i sogni svaniscono e purtroppo buttano nello sconforto tante famiglie, non solo la famiglia, la sua famiglia diretta. Allora, volevo ringraziare, come ha detto, Ilenia Zappia. Non lo so se Ilenia vuole dire ancora prima di Carmelina qualcosa. Lei mi ha detto, così come ha detto Paolo, che qualsiasi sia il ruolo che io gli vado ad attribuire, ad assegnare assessori, consigliere, fa parte di una squadra e lei gioca per la squadra, così come gioca Paolo Scrivo, così come giocano gli altri componenti della squadra Melito nel cuore. Adesso credo che è doveroso che Ilenia ci dica qualcosa. Grazie Sindaco, salve a tutti. Sarò proprio telegrafica perché gli argomenti oggi sono abbastanza vasti. Io ovviamente ci troviamo in una situazione particolare, un periodo storico per melito molto pesante. In questo momento bisogna rimanere uniti. Io è vero, ho fatto un passo indietro e lo rifarò se è il caso. Io alla fine, ho detto una cosa, mi sono cambiata come consigliere comunale. Il mio ruolo è quello del consigliere, non quello dell'assessore, perché parto dal presupposto che per poter essere un bravo assessore prima bisogna fare bene il consigliere. È giusto che in questi anni rappresento quello che è la mia figura come consigliere comunale all'interno di un comune dove è quasi una famiglia, possiamo dire, perché non ho problemi a parlare con l'assessore, in questo caso con Patrizia, con il sindaco, con il presidente, con chi che sia. Non mi sento solo un consigliere, mi sento molto di più di un consigliere. Il periodo è particolare, come abbiamo detto, è giusto fare un passo indietro. Io rinnovo la mia fiducia al sindaco come è stata fatta due anni fa, la rinnovo ora e la rinnoverò anche tra altri due anni quando saremo ancora qui. Grazie, grazie anche alla famiglia, al papà, alla mamma, ai parenti di Lenea Zappia per il contributo che hanno dato e per i suggerimenti che ci daranno da qua a fine legislatura. La volta l'esordio, diciamo, come assessore. Carmelina Zappia, come qualcuno, Carmelina Lucera, qualcuno in tempi non sospetti, non oggi, quando i numeri sono risicati, ha detto che la stampella del sindaco Meduri, Carmelina di fatto non ha, sin dal primo consiglio comunale in cui si è insediata, perché è subentrata all'ingegnere Marino, che era, non lo so se tra il pubblico, arriverà, era fuori, è andato forse a prendere un caffè, saluto, che saluto, si è subito dichiarata indipendente dopo qualche mese aderito, quando i numeri stavano dalla nostra parte, a tutti gli effetti, al gruppo Melido nel cuore. Non aggiungo altro, Carmelina è una ragazza giovane, come giovani sono tutti componenti del più anziano, ero io assieme all'ex assessore Rocco Di Pietro, 50 anni, Carmelina è molto meno. Ricordo un particolare, è facile sparare a zero, non ti aspettare che la gente magari non ti rimproveri per quello che fai, non avere paura di fare, non avere paura di sbagliare, sicuramente se ci saranno errori non saranno voluti e cercati, saranno in buona fede. Statti tranquilli, al tuo fianco avrai un papà che ti darà tutto l'aiuto necessario. Ricordo a te, come ricordo al Presidente, Presidente, quando ti dicevano che eri una pedina nelle mani del Sindaco, ti chiedo di tirare la grinta che ha tirato il nostro Presidente fuori, il nostro Presidente, non mancherà a te come non è mancato al nostro Presidente. Noi da qua a poco diremo le tante cose che abbiamo fatto e quelle che dobbiamo fare, ora ti lascio la parola. Buonasera a tutti e ringrazio tutti i presenti che siete qui stasera. Colgo l'occasione quindi per ringraziare il Sindaco, un grazie di cuore per questa nomina di Assessore e non solo lui ma anche tutti i miei colleghi consiglieri di maggioranza che fin dall'inizio, dal mio primo insediamento, hanno dimostrato affetto e colore verso di me. Io so che i tempi sono difficili, che ci sono molte difficoltà e non sarà facile infatti. Questa è la mia prima esperienza, poiché sono molto giovane, quindi potrò anche sbagliare. Io vi chiedo di perdonarmi nei miei errori, cercherò di imparare e di rimediare e detto ciò mi impegnerò al massimo per dare un contributo al Paese per cercare anche di migliorare con la massima onestà e legalità. Quindi concludo dicendo che vorrei ringraziare di cuore oltre il Sindaco, i miei consiglieri e anche la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno sostenuto e che hanno sempre creduto in me. Un grazie a tutti voi. Semplice e concisa, l'agurio che possa fare sicuramente tanto e farà il bene, lo farà per il bene comune. Adesso do la parola all'assessore Crea che qualcosa ci dirà e poi faremo fare se c'è qualcuno o più di uno che vuole fare qualche domanda, io durante il mio intervento vedrò di dare la risposta. Ringrazio tutte le istituzioni presenti e ringrazio tutti voi che siete presenti. Buonasera a tutti, ringraziamo la stampa, iniziamo così. Grazie per essere presenti stasera. mi ero ripromessa di raccogliere le idee, di fare una scaletta di cose da dire, magari di prendere degli appunti e poi svilupparli insieme a voi. Poi ho pensato che forse non era il caso, sarebbero state tante le cose da dire e il tempo è poco, è poco perché dobbiamo concentrarci. Allora parto dalla giornata di oggi. La giornata di oggi è stata emblematica, per tante cose. Dalla mattina è partita con la speranza, la speranza che forse volendo qualcosa può cambiare. Ebbi modo di dirlo ad un giornalista che era accanto a me stamattina, siamo stati insieme gran parte della giornata. Questa speranza ci ha accompagnato perché rare sono le volte in cui sono riuscita a vedere in due anni e mezzo le istituzioni tutte vicine, accanto ai bambini, accanto al territorio, sfilare per le vie del paese, quel senso di bellezza, di serenità che dà anche una certa pacificazione sociale, quella di cui oggi abbiamo bisogno. Certo è che vi dicevo partiamo dalla giornata di oggi, una giornata complicata, una giornata piena di cose da fare. E alle volte, come ho avuto modo di dirvi un anno fa, mettiamo da parte alcune cose. Pochissimo tempo per stare a casa, oggi. Ma oggi era un giorno speciale e quindi non posso non farlo in questo momento che ho un microfono in mano. Fare gli auguri pubblicamente a mia mamma, che oggi fa il compleanno. E mi emoziono perché non ho avuto molto tempo per lei. E spesso succede. Però ho avuto tempo per tante altre cose. Ho avuto tempo per trascorrere la mattinata con i bambini delle scuole, i ragazzi, con le altre istituzioni, con i giornalisti, con la gente che ci ha voluto seguire. Ho avuto il tempo per lavorare in fondazione, la mia seconda famiglia, la mia seconda casa. E poi ho avuto tempo per incontrare voi. E allora lì mi concentro un attimo e cerco di capire che succede. Sindaco, tu prima hai menzionato qualcosa e quindi le spendo due parole io per questa cosa. Le devo spendere per forza. Ileni Assessore, Carmelina Assessore, Patrizia Vice Sindaco, Mimmo Marcianovi, Sindaco, vi do una notizia. Il primo dicembre, Patrizia, è pronta a lasciare la poltrona di Assessore. Per chiunque abbia voglia di spendersi, io sarò accanto a lui. Chiunque che sia all'interno o all'esterno, non c'è nessun problema. Non ho voglia di tenere la poltrona e non ho voglia neanche di avere delle velleità o delle ambizioni personali. Non servono, non è il momento, non è questo il periodo storico importante. Non mi interessa, a me interessa incontrare sorrisi e speranza. Speranza da dare al territorio. Ragion per cui, Sindaco, non te lo fare questo cruccio. Dormici la notte e non ci pensare. Il Vice Sindaco non è un qualcosa che sconquasterà la nostra città e la nostra melito. Non è un'ambizione. Sono pronta a lasciare la carica di Assessore, se serve. Purché si continui dritti a riportare la legalità e l'onestà in questo Paese. Questa è la cosa più importante. Qualcuno ogni tanto mi chiede che cosa vi volete ottenere, dove dovete andare, ma perché non vi dimettete anche voi? Sì, potremmo farlo. E vi dico una cosa, col cuore in mano e forse un poco anche emozionata. In questo momento sarebbe davvero la cosa più facile da fare. Quella di lasciare le poltrone, tornare a casa nostra e dedicarci a quello che di sicuro abbiamo nella vita, il lavoro, la famiglia e gli affetti. E a melito chi ci pensa in questo momento? Qual è il progetto politico che c'è? Chi potrebbe occuparsi di melito in questo momento? Che cosa abbiamo portato? Non lo so, secondo me abbiamo fatto o buttato le basi per poter fare tanto. Di sicuro ci siamo impegnati. Di sicuro qualcosa abbiamo ottenuto? Di sicuro, e sono certa, caro sindaco, cari consiglieri, di maggioranza, ma rivolgo il pensiero anche a quelli di minoranza, di sicuro ci stiamo muovendo nella via della legalità e riportare a melito la trasparenza e la legalità. Questo è il più grande risultato. Io spero che questo mandato elettorale si concluda e lo concludiamo tutti insieme nel migliore dei modi, perché vorrà dire che melito non è stata sciolta. Melito è tornata ad avere un'amministrazione, è tornata ad avere degli amministratori del posto che si occupano del proprio paese. Questo vogliamo fare. Questo è l'obiettivo primario che noi ci diamo. Ora, non voglio entrare nel merito delle cose, ma qualcosina la devo toccare. È facile dire. Vi premetto che io mi sento di ringraziarvi tutti, di ringraziare chi ogni giorno ci sta vicino e ci incoraggia, ma io ringrazio anche chi ci punzecchia, ringrazio anche chi ci critica, tra virgolette, perché so che la critica nasce da due fattori fondamentali. L'abbandono totale degli anni precedenti. Non si aveva a chi rivolgersi, non si era così a portata di mano, consentitemi di dirlo. È la voglia di vedere fatte sempre cose in più. Perché questo? Perché probabilmente si sta osservando che ci stiamo muovendo nel territorio. E se ci muoviamo ad aggiustare una strada o un marciapiedi in un punto, perché non chiedere che venga aggiustato anche nella nostra frazione o nella nostra via e quant'altro? E se ci muoviamo su cose più grandi in una frazione, perché non chiederla anche nell'altra? Perché non criticare o perché non pubblicare la foto su Facebook? Pubblichiamola pure. Alla fine è da stimolo per fare sempre di più. A questo serve. Per cui sappiate che siamo tranquilli da questo punto di vista. Siamo tranquilli e siamo felici di lavorare e di impiegare il nostro tempo all'interno della casa comunale. All'interno della casa comunale in cui, ahimè, non si respira un'aria serena. È difficile. Difficile anche camminare per i corridoi. Alle volte entri alle nove del mattino. Noi lo facciamo. Anzi, il sindaco molto prima, alle sei è già in giro per il territorio. Entri alle nove del mattino, esci alle due del pomeriggio e l'aria non è tranquilla. Vi dico soltanto questo. Non è facile. Sappiate che per ogni richiesta o ogni progetto, bellissime idee che noi abbiamo, fondi, qualsiasi cosa. Poi serve tanta gente di buona volontà che ci lavori sopra. Serve che ci sia la serenità per poterlo fare. I dipendenti sono dimezzati. Tra sospensioni, pensionamenti, rinunce ad incarico, sono dimezzati. A questo aggiungete, e non abbiamo timore a dirlo, almeno io non ne ho, che chi è rimasto ha paura. Ha paura. È una parola che ci dobbiamo dire. Chi è rimasto si sente sconfortato, abbandonato. Dall'amministrazione no. Si sente di aver paura anche semplicemente a toccare un foglio, una penna o a prendere una decisione. Ecco che ci sono continue rinunce agli incarichi di irresponsabilità. Oggi c'è uno, domani c'è l'altro. Il sindaco ha nominato tantissimi funzionari responsabili che puntualmente si dimettono il mese dopo. Chiediamoci il perché e chiediamoci che cosa succede, che c'è, che cosa si è trovato, che cosa si è seminato negli anni precedenti, perché questa paura c'è. A questo aggiungiamo che l'iter burocratico si allunga sempre di più. E quando io ebbi modo di dire, nella vicenda del 25 di ottobre, mi pare forse il 25, abbiamo perso tutti. Qualcuno si è sentito punto. Qualcuno dice no, io non ho perso perché non ho fatto nulla. Le azioni sono personali. Sono d'accordo. Le azioni sono personali. E qualcuno subisce il danno. Ma abbiamo perso tutti. La cittadinanza ha perso in servizi. Ha perso in assistenza. In quella abbiamo perso tutti. Perché, che si voglia o no, mancano dei dipendenti all'interno dell'assise comunale. E così facendo non si crea altro che disordine. Qualcun altro disse l'ufficio demografico è chiuso. No, non è stato chiuso neanche un giorno. C'è stato chi, uno, due, tre persone, non di più, ha fatto orari continuati. Non ha staccato un attimo. Ma l'ufficio demografico è rimasto aperto. A servizio dei cittadini. E io li ringrazio. Ma ringrazio veramente tutti i dipendenti comunali. Ringrazio chi si occupa e chi ha voglia di fare. Perché bisogna smetterla di dire che l'amministrazione è contro i dipendenti e i dipendenti sono contro l'amministrazione. Se non cambiamo mentalità, io oggi questo voglio dire. Se non cambiamo mentalità non andremo da nessuna parte. E se la lotta è mandare Patrizia a casa o il sindaco Medurio e l'amministrazione a casa, allora veramente non abbiamo capito nulla. Non è questo l'obiettivo. L'obiettivo deve essere quello di lavorare insieme. Non spargere il terrore. Non uscire con continue idee o continue accuse. Perché vi dico una cosa. Nel momento del bisogno, è necessario che siamo tutti dalla stessa parte. E ora vi faccio una domanda. Se gli uffici comunali restano privi di personale. Io credo che il compito di un consigliere, hai detto bene consigliere Zappia, bisogna saperlo fare il consigliere, è quello di unirsi, di essere presente, che sia di maggioranza o di minoranza, all'interno della casa comunale, e capire e proporre come poter mandare avanti la macchina amministrativa. Quello è il compito. Quella è la casa che è deputata al dialogo politico. Invece noi ce lo dimentichiamo e andiamo a parlare in giro. Andiamo a parlare in giro di quello che può succedere o quello che non può succedere. Sicuramente abbiamo fatto degli errori. Sicuramente nella maniera pratica di voler fare qualcosa di buono per la cittadinanza, qualche errore l'abbiamo commesso. Ma l'altro giorno riflettevo con un amico e parlavamo di questo. Sono contenta, oggi a due anni e mezzo, di avere reso conto degli errori che ho commesso. Perché credetemi, c'è da esserne fieri. C'è da esserne fieri. Perché se il mio errore è la firma di una delibera che porta un po' polo universitario al centro della cittadina di Melito e dell'area grecanica. Vi comunico una cosa e lo faccio pubblicamente. La firmerei anche domani una delibera che portasse un polo universitario o una cosa simile all'interno dell'area grecanica. A noi non interessa chi o quale università. Ci interessa dare delle occasioni. Da lì siamo partiti. Siamo partiti dall'idea che non tutte le famiglie possono permettersi l'iscrizione del proprio figlio all'università e anche il mantenimento di un affitto. Allora ci è sembrata un'ottima idea questa. Avere un polo universitario all'interno della cittadina di Melito. Sì, c'è un errore nella delibera. Vedremo di correggere il tiro e vedremo di recuperare nella maniera più legale e trasparente possibile. Ma l'idea resta comunque valida e resta comunque quella l'obiettivo. Quello di avere un polo universitario nella nostra cittadina. Ecco, su questo riflettevo. Qui abbiamo commesso un errore. E vi dicevo, ne vado fiera se questo è l'errore che ho commesso. Perché non stiamo qui a riscaldare le poltrone né ad avere degli interessi personali. Gli interessi sono per la cittadinanza. E fin quando ci muoverà questo spirito? Credo che siamo sulla strada giusta. E se siamo combattuti da qualcuno, allora credo che lo siamo ancora di più sulla strada giusta. Perché qualcosa si sta smuovendo e a qualcuno stiamo dando effettivamente fastidio. Ma sono anche certa. E io sono una persona che sta a contatto con i propri cittadini e i concittadini. Gran parte della giornata sappiate che io incontro il sorriso di molti. E che molti si chiedono con quale coraggio, dove la troviamo la forza. La forza ce la dà il nostro paese. La forza ce la dà la speranza che abbiamo e che leggiamo nel volto dei nostri nipoti, dei nostri figli. Perché voi ci avete scelti. Lo avete fatto con responsabilità e consapevolezza. E noi questa responsabilità e consapevolezza la dobbiamo mettere nel nostro agire quotidiano. E credetemi, la stiamo mettendo nel nostro agire quotidiano, ogni singolo giorno, in ogni singola scelta. E finché saremo mossi da questo, allora credo che siamo sulla strada giusta. Io ci tengo a dirvi soltanto una cosa. Non so se è il caso di entrare nello specifico o ci sarà modo di farlo. A Melito abbiamo scritto, secondo me, un po' la storia su tante cose. Però di qualcosa io ne vado particolarmente orgogliosa. Il comune di Melito è comune capofila nei servizi sociali. Io sono fiera di aver lavorato dietro le quinte. Di essere stata sempre a contatto con le associazioni e con chi aveva bisogno. Ma nel frattempo, mentre qualcuno sosteneva che noi stessimo un po' dormendo e che sul sociale non si smuoveva nulla, mi viene da chiedervi, da chiedere e da chiedervi cosa si è smosso negli anni precedenti. Perché io abito qui da 38 anni e so esattamente tutto quello che è stato fatto. Io sono stata presidente di una cooperativa. Ho vissuto il sociale probabilmente quanto più e come molti altri. Il risultato storico che oggi si è raggiunto è questo. C'è una conferenza dei sindaci che lavora sul sociale. E mentre noi andavamo a mare, e abbiamo fatto anche bene, loro si sono riuniti tutta l'estate. Singoli incontri per progettare e programmare. Oggi il comune di Melito è capofila dei servizi sociali. E da un regolamento della conferenza dei sindaci, a un regolamento dell'ufficio di piano, a una convenzione con degli avvisi pubblici per l'accreditamento delle cooperative, per lo svolgimento dell'assistenza. Forse non siamo stati veloci, ma proviamo a fare tutto questo in breve, mettendo d'accordo tutti i comuni e tutti i sindaci dell'area. Nell'ultima riunione ho avuto il piacere di proporre al mio sindaco, perché è una conferenza di sindaci, e volevo che passasse da lì una proposta che nasce dal mio assessorato, dall'assessorato delle politiche sociali, che va un po' a vantaggio dei bisogni dei cittadini. La possibilità di avere un centro di primo ascolto, proprio qui, all'interno del mercato coperto, e che non sia un centro di primo ascolto per il comune di Melito, ma per l'intera area, un punto di riferimento, con un bando e un avviso pubblico che si rivolgerà non alle cooperative, non a scopo di lucro, ma a tutte quelle associazioni che hanno delle professionalità all'interno, che possono spendersi in maniera volontaria, e lo faranno mettendo le loro competenze a disposizione di tutti, giovani e meno giovani, donne, ragazzi, immigrati, qui in questa sede. La proposta è passata all'unanimità, e questo centro sarà un primo punto di ascolto dell'intera area grecanica. Che cosa si sta facendo sul sociale? Si sta lavorando. Come si sta lavorando sullo sport? Come si sta lavorando nella manutenzione? Come si sta lavorando su tutto? Ma vi prego di considerare anche la materia prima. I dipendenti all'interno degli uffici, che stanno facendo i salti mortali. Io li ringrazio, e dico sì, siamo tutti dalla stessa parte. Stanno lavorando tanto, ognuno per come sa e per le competenze che ha. Però i risultati si possono ottenere velocemente se siamo in tanti a lavorare, lentamente, se siamo in pochi a lavorare. Si otterranno meno risultati se invece di costruire per la nostra cittadinanza continuiamo a proferire un pensiero che è negativo, un pensiero che è distruttivo. Noi abbiamo bisogno soltanto di riappacificare il territorio. Abbiamo bisogno che i nostri cittadini leggano sul giornale le cose belle che Melito può offrire. Non abbiamo più bisogno di cattive notizie. Non abbiamo più bisogno di continui scontri. Abbiamo bisogno di una pacificazione sociale. Perché i progetti politici non si inventano dall'oggi al domani. Si programmano. E allora se c'è qualcosa di più valido in questo momento, o se io posso cedere il mio posto a qualcuno che può lavorare meglio in una maniera più costante per la nostra cittadinanza, tanto di cappello, un passo indietro, mi affianco a lui e tiriamo dritti alla fine di questa amministrazione e risolleviamoci. Perché Melito ha bisogno di risollevarci. Vi prego, siate positivi e infondete speranza anche voi. Perché è il messaggio di speranza che ci porterà ad ottenere buoni risultati. Per il resto lasciateci fare. Perché stiamo cercando di fare. Grazie. Personalmente non ho mai avuto dubbi sulle capacità dell'assessore Crea. Ho detto in più di un'occasione che la persona che mi ha dato più soddisfazioni, che mi è stata più vicina sia politicamente che personalmente, oggi non ho col dubbio nel riconfermare quanto ho detto senza se e senza ma. Colgo l'occasione di ringraziare e salutare anche se in questo momento non è con noi, non lo è fisicamente, ma è con noi. È un momento il vice sindaco. sta attraversando con la sua famiglia che è un momento molto particolare. Io ho detto in più occasioni che bisogna massimizzare i momenti positivi, bisogna esaltarli perché i problemi quando arrivano arrivano e non aspettano. Sono purtroppo inevitabili così come abbraccio e saluto il nostro segretario. Entrambi stanno speriamo che velocemente si torni alla normalità e velocemente possono superare questo momento di difficoltà di salute. Quindi gli auguri una pronta guarigione a Antonella e il marito della segretaria. E torniamo al momento del 25 ottobre l'operazione Ubiquitas un altro purtroppo episodio spiacevole episodio significativo che ci deve fare riflettere. Io vorrei dire in conferenza stampa che in qualità di sindaco non mi sento di esprimere giudizi in merito in questo momento non mi sento di dire che mi compete ma non mi sento neanche di trarre frettolosamente delle conclusioni mentre ancora la magistratura sta indagando ci sono stati martedì sera c'è stata una perquisizione al comune acquisizione di alcuni registri io lo ridico non ho nulla in mano non mi sento di andare ad acquisire a chiedere a qualche avvocato passimi le carte non lo vedo moralmente corretto quando la procura come sindaco mi notizierà mi darà le carte tranquillamente le vado a leggere le vado a esaminare e lì magari potrò dire la mia prima come cittadino e poi forse apriremo anche un dibattito un confronto con i consiglieri perché no anche con i consiglieri di minoranza perché in questa situazione io non ho ricevuto nessuna telefonata di consiglieri di minoranza nessuna nessuno si è rivolto a me per dire che pensi che fai come superiamo queste difficoltà posso dire che sinceramente che il mio auspicio è quello che il personale coinvolto magari magari possa dimostrare la propria stranità ai fatti contestati e in qualità di sindaco mi sento di interpretare il comune sentire di tutta la cittadinanza di Melito esprimo piena fiducia lo ribadisco piena fiducia nell'operato della magistratura inquirente e giudicante negli organi di polizia dal comando di vigili urbani al stazione al comando compagnia stazione carabinieri di Melito ringrazio l'ho fatto in conferenza stampa il comandante Geminiti e il comandante Laganà la sostanza il principio sulla sostanza sul principio non si discute possiamo sindacare possiamo un attimino o contestare magari ognuno è libero di farlo siamo in democrazia il metodo la forma però sul principio c'è poco da dire io un rimprovero mi sento di farlo a me stesso vi ricordo e ricordo a me stesso quando ci siamo insediati nel momento della proclamazione io ebbi a chiedere a tutti quanti soprattutto ai dipendenti comunali un cambio di marcia stava camminando con la prima ho detto inneschiamo la quinta marcia e poi a tutta velocità facciamo inversione di rotta qualcosa di pericoloso ma estremamente necessario urgente perché vedevo che Melito era ingessata era ferma c'era tanta necessità di ripartire in maniera diversa io ancora una volta oggi mi sento di sortare il personale dipendente e anche la squadra politica maggioranza e minoranza la squadra organizzativa dell'ente adeguarsi tutta agli standardi di attenzione di efficienza di trasparenza che lo stato attuale della legislazione ci richiede richiede a tutti non solo al sindaco e all'aggiunta per evitare questo è necessario per evitare che anche la pur minima ombra possa essere agitata sull'azione amministrativa dell'ente qualsiasi ombra e sospetto possa essere agitato sulla nostra Melito e ce ne stanno tanti ricordiamolo veniamo da trascioglimenti che abbiamo questo primato negativo questa palla al piede io oggi così sto evitando di leggere i giornali ma un sindaco lo deve fare passando ho visto la valina il sindaco la valina del quotidiano il sindaco partecipa alla conferenza di unirreggio quindi il sindaco partecipa è come se stesse facendo magari un sequestro di persone non so che quale reato perché non avrei dovuto partecipare di che cosa si è discusso oggi vediamo cosa diranno domani i giornali scusatemi dal primo giorno quindi ricevo del nostro insediamento assieme alla giunta e ai consiglieri abbiamo appartemente coltivato l'obiettivo di moralizzare la pubblica amministrazione dell'entro da me diretto abbiamo sempre sortato il personale a fare il proprio dovere a produrre risultati a favore della collettività a favore del bene comune oggi purtroppo ahimè dobbiamo prendere atto di uno stato di cose che come parte politica non potevamo neanche nel peggiore degli scenari prevedere o men che meno prevenire come le raccomandazioni le facciamo tutti i giorni io ci parlo con tutti i dipendenti spesso l'incalzo magari a modo mio li rimprovero ma è un rimprovero affettuoso un rimprovero perché voglio che si faccia sempre di più e sempre meglio perché le esigenze e le richieste della gente sono tantissime oggi non mi vergogno di dire lo dico come parte politica come cittadino come sindaco mi sento non solo parte lesa mi sento ferito mi sento umiliato mi tocca leccarmi le ferite io se serve voglio ricordare a tutti che gli uffici hanno piena autonomia nel funzionamento nel rispetto degli organi politici negli organi politici sono onnipresenti e possono vagliare seduta stante qualsiasi violazione della procedura e della norma penale a un'altra cosa è l'attività di controllo sugli atti sui risultati sul ragionamento dei risultati quella sì che ci compete e vi assicuro che da oggi ma anche da prima e con più convinzione con più determinazione lavoreremo affinché gli obiettivi possono essere perseguiti e si possano raggiungere sempre risultati migliori in termini di efficienza efficacia e trasparenza posso tranquillamente dire con presunzione che con tutti i limiti ce ne stanno tanti con tutte le carenze di organici ci sono 12 sembra 12-13 pensionamenti in questi due anni di amministrazione meduri e il continuo rincorrere e sostituire i funzionari che si dimettono a cadena ci troviamo e ci ritroviamo ad operare in grosse difficoltà in continua emergenza in continua urgenza ma non posso dire che a Melito non si lavora che gli operai di Melito i dipendenti di Melito sono tutti fannulloni ci sono le eccezioni ma non sono le regole si è sbagliato normale diciamo che chi opera possa sbagliare la buona fede su questo mi sento di dare un'apertura non c'è al comune di Melito la macchina che si gira i pollici c'è qualcuno stato più volte ripreso l'ho anche candidamente affermato davanti ai suoi colleghi in un incontro pubblico sono seduto per sono al comune sto seduto per riscaldare la sedia detto qualcuno là mi sarà aspettato magari uno scatto d'orgoglio dei dipendenti comunali ma stendiamo un velo pitoso su quella vicenda guardiamo avanti e facciamo tesoro dei nostri errori allora ogni visore non va certo giudicato superficialmente come questo occorre con pazienza aspettare e attendere gli esiti dell'azione giudiziaria in corso a cui buon esito sicuramente noi riponiamo le nostre aspettative mi sento in questo momento di emergenza urgenza di esprimere un grazie di cuore alla dottoressa Tiziana Crea che ha tirato egregiamente avanti diciamo la barca in questo momento domenica ci sono c'è stato un decesso ieri ce ne sono state altre tre capite che non è facile lavorare in emergenza perché poi c'è la cosa banale la carta di identità lo stato di famiglia il certificato di morte eccetera però il personale noi abbiamo fatto la cosa l'unica cosa che si poteva fare ho riunito i dirigenti gli ho detto che ognuno deve dare il proprio contributo in termini di sacrificio e di rinuncia a qualche dipendente si è stabilito dopo una riunione alla presenza del segretario di spostare qualche persona e c'è stato anche lì qualcuno che non ha gradito e allora lo ridico con serenità io magari così come scherzosamente ho detto alla segretaria che al posto suo volevo Belen come segretaria ma non perché la segretaria ha un'età per far capire ai dipendenti che chi vuole non subire ordini dal proprio dirigente deve fare una semplice cosa si deve licenziare deve aprire una ditta individuale e poi non darà conto a nessuno non subirà ordini ci sono delle gerarchie che vanno rispettate e la domanda che mi ha fatto il giornalista di Canale 5 mi diceva quanti giovani vorrebbero lavorare milioni milioni vorrebbero un posto di lavoro al comune ma un posto di lavoro dovunque quanta gente che grida lavoro che cerca lavoro che è costretta ad andare fuori allora facciamolo questo bagno di umiltà perché serve a tutti facciamo tesoro degli errori e potrei chiudere con questa prima parte questo primo passaggio io mi sono mi è sfuggito se volete fare qualche domanda alzate la mano così io magari nel corso del mio intervento vi do una risposta se c'è qualcuno che la vuole fare allora dicevo in questo momento di emergenza urgenza abbiamo anche trovato il tempo e siamo ringrazio pubblicamente il nostro prefetto Michele Di Bari ieri ha ricevuto me e sono stato accompagnato dalla dottoressa Patrizia Crea ci siamo fatti un'ampia chiacchierata è la quarta volta che chiedo incontro al perfetto e sostanzialmente ho sempre diciamo la problematica il cuore del problema che ponevo e un accompagno nel portare avanti la macchina amministrativa perché abbiamo fatto moltissimo col dottore Gulli il sovroordinato ieri ci è stato accordato e saluto con estremo piacere la presenza in aula in questa sede del dottore Giovanni Minniti che verrà spero già da lunedì assegnato al comune di Melito come sovroordinato per 18 ore abbiamo chiesto al prefetto anche l'UMI sui concorsi e gli ho detto che è volontà del sindaco avere una commissione per intero nominata dalla prefettura con funzionari di prefettura possiamo fare sin da ora sin da subito 7 8 7 barra 8 concorsi dobbiamo vedere un attimino do quale caselline riempire quali sono le priorità le vorrei fare non le posso fare tranquillamente nella stanza del sindaco con i miei assessori e la mia maggioranza ma credo che venga è giunto il momento di dire assieme maggioranza e minoranza quali sono le priorità la priorità non è quella di convocare il consiglio comunale e in un momento di emergenza con le porte chiuse bussare e chiedere l'apertura del protocollo per protocollare la richiesta di una convocazione di consiglio comunale urgente le priorità oggi sono altre io glisso sulle dimissioni dell'assessore di Pietro me le ha consegnate un pomeriggio quando dovevamo fare giunta e la giunta è saltata semplicemente detto che lui non mi manderà mai a casa che ripone in me la sua fiducia eccetera aspetto la sua presenza per poter in aula per poter tranquillamente dire come stanno le cose lui dirà la sua noi diremo la nostra io l'ho invitato a una riunione di maggioranza perché ha scritto a me non ha scritto agli assessori non si è confrontato non ha detto la sua davanti ai consiglieri di maggioranza intendo speriamo di poterlo fare presto in questo momento non mi sento di aggiungere altro e ritorniamo un attimino indietro all'inizio del mandato questi due anni e mezzo a dicembre siamo a due anni e mezzo non sono stati molto sereni per per qualcuno sempre vissuto in agitazione ricordate che dall'inizio Meduri non arriverà a mangiare il panettone parlavamo di del panettone di dicembre 2015 Meduri apparenti le scomode Meduri è un pregiudicato interpellanza Anac e quanti chi più ne è più più ne menta ricorsi vabbè superata la prima fase quando si dovevano per forza di cose per forza di cose Meduri doveva essere diciamo etichettato come qualcuno che aveva una continuità grazie a Dio i fatti con i fatti abbiamo dimostrato che queste ombre possono essere messe da parte devono essere messe da parte e grazie a Dio non è stato facile comunque ma alla fine la verità è venuta a galla per 18 mesi signori dico 18 mesi l'unico argomento l'unico argomento in testa che frullava in testa alla maggioranza di una città da cambiare era la spazzatura sì tutto quello che c'era intorno alla spazzatura per 18 mesi ricordiamocelo non ce lo dimentichiamo Meduri non ha a cuore le sorte di 18 famiglie Meduri lascia a casa 18 famiglie bene andiamo un attimino più più indietro ai commissari i commissari avevano intavolato erano pronti per hanno proposto una transazione con Ased oggi noi siamo andati molto avanti c'è una sentenza del Consiglio di Stato quando l'abbiamo portata in Consiglio per la discussione quel Consiglio che oggi ci dice che è sovrano qualcuno è scappato aveva impegni assunti in precedenza quel qualcuno secondo me in quell'occasione aveva la coda di paglia gliel'ho detto io vi posso dire che oggi con grande soddisfazione con grande soddisfazione l'ho detto ieri in prefettura gli abbiamo dato quel dato Patrizia 54 e 80% la differenziata nel mese di settembre non è un dato che fa piacere a tutti anzi a qualcuno dispiace sicuramente non a noi non alla gente che ha a cuore le sorti di melito è un dato a ribasso perché va sommata qualche altra percentuale di cartone che raccolgono altre ditte e quant'altro però non è importante la percentuale sono importanti le quattro foglie di palme prima al cimitero poi a piazza Portosalvo gli altri non ce l'hanno mai avuto questo problema è banale è sciocco parlare delle foglie delle palme il sindaco non è stata mai potata una palma quindi agli altri questo problema non ce l'avevano voglio aggiungere estraneo però è così non c'è nessuna discarica pubblica che tratta le palme in Calabria poi la discarica privata entriamo nei meandri punteruoro è stato rattato non è stato rattato l'iter quando parla a Patrizia di paura per fare un fax di conferma di preventivo di quant'altro passano giornate le firmo io le firmi tu 104 domani dopo domani e così sono rimaste le palme al cimitero così sono rimaste le palme a piazza portosalvo ma stiamo parlando di quattro foglie di palmi signori non stiamo parlando del servizio della differenziata che non decollava e che oggi ha raggiunto una percentuale che ci deve rendere orgogliosi perché guardando al futuro porterà un risparmio notevole per le casse dei cittadini del comune di melito dicevo qualcuno sta spostando l'asse adesso prima Meduri non andava bene per un certo verso oggi Meduri non va bene per un altro verso allora vi voglio fare una domanda visto che c'è stato anche la seconda in perlanza riguardiamola ha scritto l'onorevole Paglia un senatore di Ravenna se non sbaglio dice eletto in una circostruzione dell'Emilia Romagna l'onorevole Paglia sembra sia stato interessato nelle vicende militesi a seguito di una segnalazione ricevuta da un attivista del proprio gruppo politico impegnato nella fascia ionica stiamo parlando di SEL o sinistra italiana SEL quindi è facile individuare il soggetto o i soggetti questa interpellanza è facile smontarla è facile dire all'onorevole Paglia lo invito lo inviteremo a venire a merito a discutere assieme nel consiglio comunale questa interpellanza poi se la può discutere magari nella prossima legislatura perché i tempi sono questi ancora devono discutere la prima quella fatta dai grillini allora dicevo i dati dice impietosi snossolati dal parlamentare fanno riferimento alla gestione disastrosa del settore idrico dovuta alla riduzione della fornitura da parte della società di tolare servizio per mancato pagamento dei corrispettivi allora io subito dopo questa interpellanza come sindaco ho convocato Sorical i vertici di Sorical abbiamo fatto un verbale dice ma perché sindaco non lo passi alla stampa perché non dai notizia nel verbale alla presenza dell'ingegner Gangemi capo compartimento area sud e del geometra attisano responsabile Sorical viene riportato per quanto riguarda l'interrogazione parlamentare riportata sulla gazzetta del sud il sindaco chiede a tecnici Sorical di attestare la non corrispondenza al vero di tale affermazione quindi io dico a Sorical dimmi che una città da cambiare ha detto delle bugie e questo lo confermono i tecnici Sorical in merito a ciò i rappresentanti Sorical riservandosi di inviare un'attestazione precisa e compiuta via PEC dichiarano che allo stato attuale non è stata attuata da parte di Sorical alcuna riduzione di portata relativa agli eventuali mancati pagamenti non solo per il comune di merito ma per tutti i comuni poi dicono che ci sono stati dei danni e che si è prontamente e ci accordano anche la sostituzione di 100 metri lineari circa di condotta a loro spese per far fronte alla problematica che c'era e che c'è ancora nella frazione d'acco dove c'è un grosso spreco o ammanco di acqua perché dice Sorical basta un litro per servire quella zona e di media ne avevamo tre anche cinque al secondo in quella zona poi sempre nell'attessa interlocazione parlamentare pessimo anche il report sull'arcorta della spazzatura col sistema porta a porta che doveva raggiungere il 74% sì questo era l'obiettivo che avrebbe dovuto raggiungere ASED signori il 74% ci ha lasciato con meno del 10 ASED o meglio è stata rimossa ASED con una scelta qualcuno all'epoca mi ha detto stai azzardando perché ricordo quanti ostacoli abbiamo avuto all'interno del consiglio comunale da parte dei consiglieri di una città da cambiare e ferma al 10% dopo 18 mesi dopo un anno e mezzo ma scusatemi l'interpellanza quando è stata fatta che dati hanno non siamo andati mai da quando si è partito sotto il 45% la media è del 50% oggi siamo al 54% nel mezzo e 80% ma questi dati evidentemente non fanno piacere anzi sono un dispiacere per lor signori consiglieri e allora mi permetto di aggiungere qualcosa all'onorevole Paglia estendiamola a questa interpellanza chiediamo che venga fatta luce e chiarezza anche sull'esito e sulle elezioni comunali del 2015 vediamo se è vero quello che ha detto il consigliere Minniti che a Zara si è limitato a votare un candidato di quella lista vediamo effettivamente chi ha votato e perché ha votato facciamola questa ma facciamola ora facciamo tutto tutto assieme non abbiamo paura e non abbiamo scheletri negli armadi io chiedo che venga fatta chiarezza sui rapporti politici dei consiglieri di una città cambiare stiamo parlando di rapporti politici non di altro altro magari non sta a me dirlo se c'è altro io vi voglio dire che l'astio nei confronti di Peppe Meduri da parte del consigliere Minniti ha una storia un po' lunga ha una tradizione nel 2001 signori signori della stampa riportiamolo quando lo volete vedere questo documento nel 2001 io ero assessore ai lavori pubblici e con me c'era il papà del consigliere Minniti vice sindaco e scrive scrive in una denuncia la denuncia è del 2001 fa presente altresì ve la risparmio poi chi la vuole leggere in uno spaccato dice fa presente altresì che ha di già subito tre attentati uno incendio dell'automobile 2001 l'incendio dell'automobile se non vado errato se non vado errato e di tantissimi anni prima esattamente quando io allattavo quindi nel 2001 il mio vice sindaco seduto con me presenta una denuncia e dice oggetto rimozione e sospensione da amministratore legale locale dell'ingegnere Meduri guarda prefetto che ho di già subito tre attentati questa è la storia io ne avevo parlato con il consigliere Minniti e gli ho detto all'indomani del pranzo che io gli ho offerto dove la dottoressa di Raimondo ha detto stringetevi attorno al vostro sindaco gli ho detto guardi Carmelo io non ho risentimenti o rancori collaboriamo ho già dimenticato la storia con tuo padre me l'ha negata dopo qualche giorno dice che non si ricorda di questa denuncia il papà quindi questo astio non nasce da ora è un astio che si trascina e che non mi interessa guardo avanti non vivo per il saluto dei consiglieri di una città il saluto è educazione il saluto è cortesia il saluto al sindaco è un dovere vediamo quello che abbiamo trovato appena ci siamo insidiati ho portato ieri abbiamo portato la storia della ditta che gestiva i servizi di pulizia all'interno del comune la ditta 5 poli doveva pulire 6 immobili ne puliva 3 doveva venire 5 volte a settimana ne veniva una negli ultimi 8 mesi non c'era contratto ci ha chiesto 65 mila euro l'ufficio dice che gliene deve 5 queste carte sono in procura come tante altre già da settembre 2015 boh che succederà io vi dico quello che è successo è successo che da quando mi sono insidiato 4.700 euro al mese il comune togliamo le 700 ma il comune 4.000 euro al mese le ha risparmiate le facciamo 4 conti non sono bravo in matematica perché per essere bravo in matematica però riesco a capire che non serve essere figlio di professore non basta altrimenti la percentuale della differenziata si sarebbe capita facciamoli i conti con quello che abbiamo trovato lo facciamo sul campo sportivo c'è l'omologazione della Lega Nazionale Calcio ma poi il 18 febbraio mentre erano in un letto dell'ospedale mi chiamano i carabinieri sequestrano la tribuna e che hanno omologato la Lega Nazionale Calcio il progetto della tribuna non è stato mai depositato adesso la demoliamo la tribuna la dobbiamo demolire stiamo parlando della copertura vogliamo parlare del palazzetto dopo domani faremo delle nuove prove sul cemento è un'opera che è stata realizzata con l'alta sorveglianza del genio civile non ci quadra qualcosa sui risultati del cemento eppure mi è stato detto che se vado a demolire il palazzetto dello sport rischio il carcere perché è un'opera che è fatta con l'alta sorveglianza del genio civile per chi in materia è ferrato qualcosa che fa venire brividi vogliamo parlare della gestione della depurazione quanto si sta risparmiando vogliamo parlare di che cosa spostiamoci al mercato anche là hanno avuto da ridire il mercato non mi tremava la mano quando ho chiuso il mercato quanta gente ha protestato quanta gente ha gridato quanta gente è venuta a dirmi ricordo l'episodio io compro il coniglio a 1,50 euro mi ha detto una signora signora non mangiate coniglio per qualche settimana è un male necessario dice ma così ho dovuto rispondere è banale però anche questo è la verità oggi rispetto a ieri ci sono 80 persone che sono in regola con i tributi con il pagamento non ci interessa se 20 gridano allo scandalo perché non possono rientrare nel mercato signori mi sembra che circa di 20 euro la tassa a settimana e c'è gente che a 4.000 5.000 euro ha maturato 6.000 euro di arretrato non ha volontà di pagare non è dalle difficoltà perché quella l'abbiamo superata se ci sono problemi di malattia gli abbiamo dato la possibilità di pagare a rate l'abbiamo fatto con delibera di giunta oggi abbiamo incassato circa su 200.000 euro 120 lo dice sempre stiamo parlando del mercato e non sono soldi che si è messo in tasca Peppe Meduri o l'assessore Crea noi abbiamo agito per recuperare quello che era dovuto ci interessa poco che è calata la nostra popolarità perché abbiamo accertato con l'amministrazione Meduri questi sono i dati che servono e su questi ci possiamo confrontare con lorsignori una città da cambiare perché qualcosa potremmo dire nello specifico 1.556.000 euro 916,46 questo è stato l'accertato sull'Atari con l'amministrazione Meduri quest'anno 2017 in quel bilancio in quel bilancio dove si paventa non si sa che abbiamo scritto 310.000 euro come numero ne abbiamo accertato siamo vicini a 500.000 euro di accertamento quest'anno quindi non sono numeri e sicuramente non ci stanno i numeri dell'interpellanza parlamentare con i dati forniti da una città da cambiare 30 milioni l'onorevole Paglia parla di una situazione disastrosa con circa 30 milioni di euro di debiti ma li ha fatti l'amministrazione ha messo ma non concesso perché non è così non sono dati veri ma li ha fatti l'amministrazione Meduri mi viene da chiedere in questi 30 mila euro 30 milioni di euro magari oggi qualcosa si sarebbe risparmiato con noi assessore non c'è il vice sindaco che propone la delibera che va a favore della moglie per 5 milioni per i quadri diciamocene queste cose non le abbiamo dette fino a ora con noi questo non succede poi succede lo scandalo di unireggio e dov'è lo scandalo abbiamo sbagliato nella dicitura vediamo se c'è il regolamento che dà l'accesso non c'è un regolamento per la consegna e la gestione degli immobili comunali demanda tutto al consiglio il consiglio deve fare dovrà fare spero una convenzione con unireggio l'idea è quella di dare di portare in primis l'università a medito di dare locali diciamo quella parola gratis suona suona sbagliata non far pagare per avere per avere la formazione la proposta è tre moduli di formazione 18-20 ore per 61 persone chi è più bravo di me lo siete in tutti qua dentro lo siete tutti a medito fatele i quattro conti e nel dare avere vediamo se il comune avrebbe subito un danno o avrebbe avuto un giovamento sempre lo signori una città da cambiare ricordate la storia del telefono che ho affrontato io che sono il sindaco ma lo avrebbe dovuto fare un funzionario magari il seretario siamo stati circa tre mesi senza telefoni ricordo a certo punto quando mi sono anche girato un po' fuori dalle righe come mi capita spesso onestamente con il tizio che mi veniva a infinocchiare che era corretta la procedura e che quindi i telefoni erano il servizio era stato interrotto correttamente da parte loro la stampa non l'ha scritto una città a cambiare non l'ha visto controlla tutto ma c'è una delibera che ci riconosce i 15.000 euro di indennizzo perché Telecom ha interrotto inopportunamente indebitamente erroneamente il servizio al Corecom l'unico il più alto indennizzo negli ultimi anni della storia del Corecom di Reggio Calabria è stato di 3.000 euro se noi abbiamo avuto 15.000 euro in prima battuta non è qualcosa di poco conto non voglio la medaglia d'oro ma voglio che chi ha scritto che i telefoni ci sono stati tagliati il servizio ci è stato interrotto perché non abbiamo pagato la bolletta faccia ammenda ed è che ho sbagliato ho detto una stupidaggine non sono stato sono stato frettoloso scusatemi vogliamo parlare e glielo ho detto al prefetto dove abbiamo diciamo tra virgolette toppato non abbiamo ancora messo mano in maniera seria sull'acqua sull'acqua parlavo dell'ammanco che c'è all'acqua ma c'è a Prunella c'è a Musa c'è in tutti i posti signori c'è un ammanco sull'acqua che va oltre il 50% dell'acqua fornita e dell'acqua incassata ci sono 2.300 quasi 400 casi dove c'è la luce si paga la Tari ma non abbiamo dottore Minniti non si spaventi è un compito ma ci riusciremo non c'è di scontro con l'acqua una parte è che noi non riusciamo a agganciare i deceduti ma il resto credo che ci stiano tanti furbetti e signori sull'Atari ho detto salto da una parte all'altra per andare a stringere e a chiudere perché siamo arrivati a un'ora la strada di Rocudi ho scritto al prefetto si è detto poco si è detto tanto riconfermo oggi che quell'ordinanza così come è stato detto in prefettura è un'ordinanza illegittima 4 giorni presso il comando stazioni si era preso il sindaco con le calze vettieri 8 a Reggio glieli ho dati io 4 in più la strada è sempre chiusa non lo so non lo so oggi mi dicevano che tra 10 giorni ultimeranno i lavori anche con i lavori la strada dico come tecnico e come cittadino che non doveva essere chiusa così come signori e faccio una stoccata una stoccata è stata una cosa antipatica il sequestro della macchina operato dai vigili poteva secondo me non essere fatto al di là della segnalazione fatta dal dottore Vinci questo mi è stato detto dottore Vinci ma il dottore Vinci ha potuto sbagliare perché qualcuno dipendente comunale lo ha sicuramente avvertito che la macchina era uscita e non aveva l'assicurazione se qualcuno quel qualcuno fosse stato impegnato a fare il proprio dovere non aveva il tempo per telefonare al dottore Vinci però non tutti siamo gli stessi pur io ho fatto la fotografia alla macchina del dottore Vinci che era sul marciapiedi tutta risposta e lui dice mi ricordo al giustiziere di turno ero io che ho fatto la foto non mi serve non trovo nessun giovamento o goduria se i vigili urbani fanno o non fanno la contravenzione del dottore Vinci era un segnale per dire sbagliamo tutti non trovate il pelo nell'uovo caro dottore Vinci questo era il senso allora diciamolo e diciamolo stavolta e non torniamo più io stamattina ho chiesto di seppellire l'ascia di guerra il mio rapporto pessimo con la stampa ha una storia io saluto e lo dico stavolta e non ci ritorno più lo voglio dire lo devo dire da più parte mi viene indicato e mi viene chiesto come mai la gazzetta del sud scrive in questa maniera per l'amministrazione Meduri io glisso sull'argomento e dico che tutti possiamo sbagliare ma non bisogna perseverare ho chiesto consigliere Vinci dottore Vinci ho chiesto la sepoltura dell'ascia di guerra ma non perché mi sento debole non perché non voglio essere attaccato le sa benissimo che le ho fatto più di una querela lo sa lo sa pure che è stato condannato in prima in prima battuta è stato diciamo un esito sfavorevole non lo so tecnicamente la querela ha un esito positivo nei miei confronti ne ho fatte più di una ce la giochiamo come dice lei non mi va di andare tutti i giorni tutti i giorni ha dato anche ultimamente delle notizie false così dice il comandante dei vigili così dice io ricordo anche una sua richiesta la vicenda dell'università l'assegnazione diretta lei ha fatto una richiesta per piazzetta Don Bosco più o meno simile dico ricordo quando lei si è dimesso e ha detto da consigliere comunale ricordiamolo un giorno rimpiangeremo Peppiaria io non mi strappo i cappelli per Peppiaria non lo rimpiango sicuramente so quanto ha fatto per merito e quello che ha fatto come lo sappiamo tutti e so anche che dopo qualche giorno dalla sua dimissione è stata fatta una delibera di un suo contributo diciamole queste cose diciamole allora 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 io vi ho detto se volete fare qualche domanda allora nell'immediato e l'ultima cosa stamattina qualcuno mi parlava dei vigili ho detto che la macchina poteva non essere sequestrata poteva a mio avviso la querela al sindaco non doveva essere fatta da parte dei vigili la querela al sindaco da parte dei vigili non doveva essere fatta allora forse qualcuno pensa che tanti colpi alla noce alla fine la fanno cadere questa noce resisterà e resiste perché merito a necessità di resistere ce lo siamo detti e vi dico quello che vogliamo fare nell'immediato nell'immediato abbiamo avuto qualche mesetto fa 20 giorni fa rappresentante del credito sportivo abbiamo la possibilità di avere 2 milioni di euro per lavori espropri a parte e diritti tecnici a parte per il palazzetto dello sport faremo le prove per vedere se va demolito o non va demolito se le prove danno esito positivo vi dico che il palazzetto non è più un miraggio se possiamo andare al recupero del palazzetto lo sapremo da qua una settimana la piscina viene ridimensionata ma non è più un miraggio le strade di piano le stiamo rincorrendo stiamo pagando un mutuo da circa 4 anni gli alloggi popolari e qua diciamo che è anche un altro settore dove abbiamo fatto zero abbiamo fatto nulla ma come e con chi vanno fatte queste cose chiediamocelo ieri mi mandava mi ha mandato Ilenea Zappia un un bando io ho letto qualcosa di sommario per il canile comunale è stata sempre una mia fissazione stiamo pagando 2500 euro al mese circa anche lì c'è stata una denuncia da parte dei vigili in un controllo avevamo circa 40 cani però ne erano rimasti 20 anni la fattura era per circa sempre 40 stiamo pagando 2500 euro al mese canile comunale potremmo avere un finanziamento come comprensore per il comune di mele di 270 mila euro abbiamo i terreni e ritorniamo ritorniamo a quello che bisogna fare noi andiamo avanti noi ci siamo i rapporti con la minoranza qualcuno diceva un governo di salute pubblica ma quali rapporti come possiamo recuperare i rapporti con la minoranza nel momento in cui si va a proporre una variazione di bilancio per garantire una singola variazione di bilancio quindi era singola non era generale che riguardava più voce per garantire servizi ai diversamente abili ai ragazzi delle scuole che sono meno fortunati di tutti noi e di tutti gli altri assistenza scolastica la minoranza ha votato no ma ha capito riesce a capire quali sono gli esiti di un voto sfavorevole a quella delibera perché mi chiedo se quella delibera non fosse passata i servizi non potevano essere dati assessore quindi non si tratta di essere bravi o meno bravi magari dateci le botte sul culo perché l'abbiamo fatto in ritardo perché forse l'abbiamo fatto in maniera sbagliata nella programmazione ma una volta che si corre a ripari perché votate contro o vi astenete qual è la motivazione ditelo non siete bravi corriamo a ripari siamo con voi quindi come recuperare i rapporti con questa minoranza con quella minoranza che dice che bisogna fare qualcosa per la manineria di melito che non abbiamo messo niente sul bilancio sì ok ci sta l'idea ma qual è concretamente quanti soldi servono e per che cosa servono parliamo dell'essenziale in questo momento parliamo dei vericelli che mancano sul piano spiaggia parliamo del perché non è stato fatto il piano spiaggia parliamo di tutto quello che deve essere fatto a melito e ancora non è fatto perché garantire servizi essenziali dice bene Patrizia Crea come farli in emergenza come farli bastone e carota ci sono due procedimenti disciplinari fatti con la commissione straordinaria 13 più 22 fatti con l'amministrazione medori uno addirittura con un licenziamento quindi 25 procedimenti disciplinari a cui vanno sommati tutti questi io non voglio gettare nessuno nello sconforto però abbiamo anche ricevuto una missiva del ministero per l'ultima vicenda quindi non so come finità come 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 possiamo tirare avanti sicuramente moltiplicando gli sforzi sicuramente facendo mutuo soccorso sicuramente dando suggerimenti non a rompere ma a costruire ripeto io non voglio essere polemico con nessuno posso tranquillamente dire che nessuno di noi come maggioranza ha mai rubato un centesimo o ha mai pensato di poter rubare un centesimo nel passato c'è molto su cui poter diciamo aprire partite particolari abbiamo avuto con molta difficoltà la gestione dei migranti ci è stata più volte dato atto del contributo che abbiamo dato mentre sempre suggerito da una città da cambiare dal gruppo sinistra italiana l'onorevole paglia dice una gestione illegale di cento migranti ma mi domando se la gestione è legale in tutti i sopralloghi in tutte le ispezioni della prefettura perché non è stato osservato perché guardate sui migranti io ieri l'ho detto al prefetto qualsiasi sono mortificato perché non sono mandate le cose ormai è chiusa la storia anche se ci sono due gruppi di ragazzi migranti una prunella e uno a san leonardo non gestiti direttamente dal comune chiaramente ci siamo stati siamo stati condotti per mano sulla gestione dei migranti giornalmente mi sentivo più volte con la prefettura abbiamo agito badate bene in emergenza urgenza non in ordinario quindi tutti questi scheletri queste ombre che devono per forza di cosa apparire sull'amministrazione medori diradiamole sgombriamole chiedo a voi come stampa un bagno di umiltà se ha sbagliato medori voi non avete sbagliato meno di medori io sono pronto a chiedere scusa se ho sbagliato se ho sbagliato vi chiedo soltanto un esame di coscienza per dire esattamente le cose come stanno quello che abbiamo trovato quello che abbiamo fatto le difficoltà ma per dire una volta per tutte parlare in positivo della nostra melito delle potenzialità che si hanno non ho sentito nessuno parlare 100 euro il bergamotto al dettaglio quest'anno la bestemmia le nostre sardine qualcuno dice parli del tuo soprannome 11 chili di sardine pesce fresco pesce azzurro viene pagato ai nostri marineria alla nostra marineria 10 euro a Messina una vergogna dietro i sacrifici che ci sono in questi giorni ho ricevuto tantissimi coltivatori della zona di Lacco che dicono che non possono raccogliere le olive eppure si tratta di una sciocchezza di qualche ora di mezzo meccanico non riusciamo a partorire una determina con un incarico lo può fare Vinci lo può fare Meduri basta che si fa bene serve l'interpellanza pensate per chiarire lo stato dell'arte dei palloni o delle fiumare come se le fiumare fossero di competenza del sindaco il sindaco in emergenza è intervenuto sulla fiumara nell'alluvione ma il sindaco da solo e questo vi chiedo l'assessore da solo il sindaco con l'assessore a melito può fare poco può fare poco allora iniziamo tutti quanti iniziate sentitevi sentitevi sindaco io ho l'umiltà di tenere le porte sempre aperte ho l'umiltà l'ho sempre avuto di saper accettare i consigli però non permetto a nessuno non permetto a nessuno di dare giudizi sommari sulla mia persona giudizi frettolosi io al pari di tutti voi al pari di tutti voi non meglio di nessuno sono una persona che si alza e lavora sa come si guadagna il pane sulla mia e sulla nostra onestà non permetto a nessuno di sindacare non permetto a nessuno di buttare ombre ci avete provato una città da cambiare ci ha provato in un verso non ci è riuscita adesso ci deve provare nell'altro 30 milioni di debiti c'è questa interrogazione veramente la portiamo in aula la vogliamo portare la portiamo io chiedo una sola cosa riuscite a far venire l'onorevole paglia a melito portatelo con molta serenità mi impegno a pagargli personalmente il biglietto di andate e ritorno dell'aereo e il vitto all'alloggio per un giorno gli facciamo consultare queste carte vediamole tiriamole fuori poi il mancato pareggio di bilancio io lo tra gli appunti l'ho sorvolato io il pareggio di bilancio l'ho firmato quando firmo un atto gli do il telefonino per l'invio telematico il mio compito è finito poi se qualcuno lo manda non voglio pensare per l'amor di dio che è in mala fede se poi qualcuno è anche in seconda battuta il revisore dei conti immaginiamo qual era il responsabile del sindaco però l'unico a pagare in prima persona è il sindaco assieme alla giunta perché viene decurtata l'indennità del 40% e chi ha sbagliato non può essere perseguito perché per perseguire chi ha sbagliato dovrei diventermi da sindaco caro assessore e tu di assessore e voi di assessore allora poi paga il paese perché ritardiamo le assunzioni le possiamo fare nel 2018 non nel 2017 fortunatamente abbiamo superato il blocco dei trasferimenti saluto l'ingegnere Marino che ha salutato ci ha onorato della sua presenza per dire che si può anche avere delle visioni differenti ma alla fine con l'ingegnere Marino mi dispiace che se n'è andato la mano ce la siamo stretta l'ascia di guerra è stata disotterrata sono stato bravo io è stato bravo lui è stata brava Patrizia siamo stati bravi tutte e tre con la stessa percentuale del 33,33% perché alla fine abbiamo capito che serve una sola cosa l'unione serve stringerci attorno a un problema aggredirlo e ove possibile risolverlo tutto assieme questo l'ha capito Gianni Marino l'ha capito Peppe Meduri mi auguro che questo possa velocemente essere un pensiero condiviso e un pensiero che ci possa trascinare velocemente lontano dalla palude che abbiamo ereditato e che piano piano stiamo prosciugando adesso se il presidente visto visto che la pidina in mano del sindaco vuole fare un saluto o altro lascio a lei le conclusioni sì come dopo tutto gli interventi sono stati già tanti non so se funziona gli interventi sono già stati tanti come ho detto è stato fatto un quadro comunque della situazione attuale presente al comune di Melito è chiaro che la situazione sia veramente complicata ma attraverso la collaborazione attraverso la passione che ci deve spingere per gestire un paese veramente difficile da poter gestire dati i vari problemi che si stanno succedendo solo attraverso veramente la possibilità di una condivisione del lavoro da svolgere del lavoro della presenza costante che deve essere che deve esserci da parte di noi amministratori solo attraverso appunto l'unione quindi è possibile uscirne fuori come già ha detto il sindaco detto ciò tutto questo deve essere chiaramente accompagnato dalla legalità dalla trasparenza e da una visione politica che sia abbastanza ampia abbastanza lontana che pensi al futuro ai giovani e possibilmente anche a un futuro relativo anche ai nostri figli quindi a un miglioramento reale del del paese grazie a tutti se il dottore vici vuole fare quella domanda o le domande brevi e concisi potrò rispondere da quella non meriti nessuna domanda allora chiudiamo domani con delle carte vediamo fai un'altra guerriera domani non c'è problema ne ho fatte più di una se fai un'altra fai un'altra non ho problemi di sonda non ho problemi di sonda se facciamo se ti posso fare una io stasera per le stupidaggini che hai detto e va bene facciamola non è un problema è l'ascia di guerra che avete sotterrato come mai questa riunione questa sera abbiamo inteso incontrare la cittadinanza dico qual è il problema mi sembra che la sede è il consiglio comunale la sede è il consiglio comunale qualcuno ha detto nel consiglio comunale intanto non possono non possono intervenire i cittadini io ho detto all'inizio serata se qualcuno vuole fare delle domande le può fare allora nella sede del consiglio comunale ci sono delle contraddizioni a volte il momento una città da cambiare ha fatto una conferenza che dice visto che eccetera eccetera fanno la conferenza stampa poi presentano un'interpellanza o presentano una convenzione del consiglio che dice che l'unica sede opportuna in cui parlare è la sede del consiglio in conferenza però parla il loro presidente il dottore Baciglieri allora l'unico modo per poter stanare chi vuole fare delle domande e vi diamo la possibilità tranquillamente è un modo per poter dire le cose a 360 gradi senza rimanere nell'ordine del giorno caro architetto Alati è quella di un incontro pubblico se avete altre domande mi sembra che sono stato abbastanza chiaro se non ci sono domande grazie della vostra presenza e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti